Upsa tutti, miei cari Upsini e Upsine Come state? Oggi sono qui solo per voi, per fare un video dove ci saranno molti hands movements e anche tanti 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 mouth sounds Tone clicking e tantissime altre cose Quindi senza dire altro e senza perderci in chiacchiere indossate un paio di cuffie o auricolari Stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene? Chiudete gli occhi, chiudete gli occhi E io adesso comincio Cominciamo grattando via un po' di pensieri dalla tua testa Gratt, dratta, 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 dratta grotto, 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 grotto... scritcha, 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 scritcha Adesso i tuoi pensieri li tiriamo, li tiriamo, li tiriamo così, così li tiriamo li portiamo via, li portiamo via, li portiamo via, li portiamo via, via via perché non ci servono li tiriamo, li tiriamo, li tiriamo, li tiriamo, ora facciamo ancora un po' di grattini e adesso con due mani ogni scratching di scritto adesso riprendiamo i pensieri riprendi blac Blacca 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 adesso dobbiamo continuare a tirarli un po' più forte li tiriamo così, li tiriamo, li tiriamo così sì perfetto, perfetto, perfetto e mentre li tiriamo possiamo anche tagliarli questi pensieri che non ci servono quindi zack, 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 zack via zack, zack, zack zack, zack, zack così li tiriamo, zack, zack, zack via, 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 via li mandiamo tutti via poi adesso un po' di forbici così zack, 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 zack 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 zack, 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 zack cincinnitititititititititititititititititititit語 ticca 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 continuiamo a togliere altri pensieri che non ci servono via 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 e adesso facciamo un po' di carezze un po' di carezze un po' di carezze un po' di carezze ai lati del viso così ai lati del viso un po' di carezze un po' di carezze poi andiamo solo su quello destro un po' di carezze così carezze sul viso carezze andiamo su quello sinistro carezze 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 sul viso sui lati del viso così così poi facciamo sugli zigomi carezze sugli zigomi così carezze sugli zigomi facciamo prima quello destro le carezze così su quello destro e poi su quello sinistro carezze 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 l'occhietto destro l'occhietto destro e l'occhietto sinistro e questi due occhietti si vogliono chiudere perché vogliono andare a dormire poi passiamo al nasino il nasino il nasino il nasino facciamo le carezze al nasino carezze al nasino carezze al nasino sì sì carezze al nasino poi le sopracciglia alle sopracciglia così le pettiniamo 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 e massaggiamo lo stress verso i lati del viso, quindi lo mettiamo verso i lati, via, lo portiamo via dal nostro viso, verso i lati, verso i lati, così togliamo tutto lo stress, verso i lati, 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 così 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 così, perfetto, adesso facciamo un massaggino alla fronte, alla fronte, alla fronte, che è una parte che deve rilassarsi molto la fronte, quindi facciamo un massaggino alla fronte, alla fronte, così sempre portando verso l'esterno, verso l'esterno, così si rilassa anche la fronte, anche la fronte, e poi ora le guance, le guance, le guance, le guance che si devono anche loro rilassare, le guance, le guance, le guance, le guance, facciamo le carezze alle guance, alle guance, alle guance, alle guance, alle guance, le guance, e adesso sorridi, 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 che facciamo un massaggino alla bocca, alla bocca così, alla bocca, 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 alla bo flash ora lo prendiamo lo prendiamo e ora di nuovo flash 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 Flesch, flash, 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 adesso di nuovo lo prendiamo Lo prendiamo, lo prendiamo, lo prendiamo, lo prendiamo, lo prendiamo, lo prendiamo Così sì ok ok, ok, ok adesso facciamo un po' di onde con le mani tic tac 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 ormai ormai Tuu toku tuu altro Uno угuh Uno uguh Uno 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 vieni con me vieni con me vieni con me vieni con me adesso chiudi gli occhi perché cucù cucù è il momento della buonanotte e adesso tocca a voi iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della OOPS community e se siete dei maschietti diventare i miei OPSini mentre se siete delle femminucce diventare le mie OPSine poi lascia un bel mi piace se questo video ti è piaciuto e commenta qua sotto tutto 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 quello che ti passa per la testa ricordati che il mio canale è un posto sicuro quindi non preoccupare a scrivermi però purtroppo il video di oggi finisce qua ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video che vogliate quindi buonanotte ragazzi buonanotte un bacio e noi ci vediamo al prossimo video buonanotte